buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale come potete vedere io sono un appassionato di videogiochi quindi di console la maggior parte retro come vedete playstation 1 playstation 2 xbox 360 psp ui mi appassionano un po tutte e ho deciso di fare di questa passione un hobby secondo lavoro quindi io acquisto console usate le smonto completamente le ripulisco le rimonto e poi le modo quindi installo le mode per poter leggere roms quindi videogiochi da hardware esterni quali hard disk usb stick e così via ho sempre cercato video per riparare le console e così via in quanto io non sono un tecnico e ho sempre trovato video maggiormente in lingua inglese quindi ho deciso di creare dei video completi in lingua italiana per ogni console su cui lavoro spero che questo possa aiutare altri appassionati come me nei miei video metterò i link per le attrezzature i materiali di pulizia che utilizzo i link dei miei canali di vendita se vi dovessero piacere i miei video e dovesse trovare interessanti e vi chiedo di mettere un mi piace e iscriversi e iscrivervi al mio canale ringrazio a tutti e adesso partiamo con con la console di oggi amici d'amiche di salvo gamer bentornati sul mio canale eccoci qua per un nuovo video oggi vi mostrerò come poter inserire delle roms quindi dei giochi della playstation 1 psx sull'hard disk di una ps2 modificata con free hd boot in un video precedente vi ho fatto vedere come effettuare la modifica del free hd boot e in un altro video vi ho fatto vedere come caricare i giochi della ps2 dentro quella hard disk oggi vi farò vedere come caricare quelli della ps1 la procedura non è breve potrebbe sembrare un po complicata ma con i file adeguati con i file giusti non è nulla di impossibile bisogna prestare un po di attenzione nella preparazione e io cercherò di guidarvi passo passo in una preparazione adeguata in modo che abbiate i vostri giochi della ps2 funzionanti sulla ps1 scusatemi funzionanti sulla vostra ps2 fat tutto dentro l'hard disk così non avete nessun accessorio extra nella console quali usb stick e così via ovviamente per questa procedura ci serve la nostra playstation 2 ci serve l'hd adapter che vi ho già fatto vedere nel video della modifica ci serve il nostro hard disk preparato con dentro il free hd boot ci servono dei giochi della playstation 1 io utilizzerò questo che ho da cui ho effettuato una coppia sul mio pc e un file che invece avevo in una cartella così vi faccio vedere un attimo delle differenze e ci servirà un pc ovviamente perché dovremmo lavorare molto sul pc e ci servirà una dock station una docking station per il collegamento dell'hard disk al pc se utilizzate hard disk ide o sata da 3.5 vi serve un docking station se invece utilizzate un hard disk sata da due e mezzo quindi per conto per intenderci gli hard disk quelli piccolini vi basta il un adattatore usb sata cioè un connettore che da un lato al connettore usb è un cavo che da un lato a un connettore sata si collega all'hard disk e dall'altra parte a un collegamento usb perché per l'hard disk da 3.5 serve la docking station perché la docking station lavora a 12 volts non l'hard disk da 3.5 non riesco io ho provato ma non riesco ad alimentarlo con l'adattatore perché la porta usb e 5 volts ecco il perché se utilizzate hard disk piccoli non vi serve la docking station e il cavetto di adattato il cavetto adattatore usb sata costa 5 6 euro mentre la docking station costa intorno ai 30 euro quindi poi la scelta è vostra dipende sempre dell'hard disk che avete a disposizione ovviamente i file da utilizzare saranno anche da convertire in un formato apposito ma vi farò vedere tutto sul pc quindi ci troviamo tra poco sul pc per iniziare le procedure eccoci adesso siamo sul pc e possiamo iniziare pian pianino passo per passo a preparare tutto quello che ci occorre iniziamo in primis con la preparazione dei nostri file dei giochi i file dei giochi come ho mostrato anche nel video in cui ho inserito la guida per inserire giochi sulla usb stick devono i giochi devono essere in formato vcd quindi video cd qualsiasi altro formato non è gestito dal open ps2 loader o pl che è l'app che si usa sulla playstation 2 per far girare giochi roms ps2 ps1 da hard disk interni da hard disk esterni da usb da sd card tramite la mx4s io che ho fatto vedere in un altro video insomma da componenti che non siano cd dvd quindi quel software quell'applicazione serve per tutte queste funzioni per tutte queste funzioni ma i file della playstation 1 o della psx devono essere in formato vcd quando noi andiamo a recuperare a copiare un cd della ps1 sul nostro pc verrà copiato in formato immagine in formato bin in formato q in formato sub e così via ma non in vcd quindi avremo bisogno di convertire il file nel formato corretto stessa cosa se andaste a scaricare online un gioco come dico sempre so che si scaricano online non vi posso dire i siti dal cui scaricare perché è pirateria quindi non vi posso suggerire ovviamente la pirateria nei miei video però se scaricaste dei video dei giochi online delle roms online sono probabilmente in formato bin o q e bine q e o bine basta e o in formato ecm cos'è il formato ecm il formato ecm è questo 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 è formato ecm ve lo faccio vedere a schermo la descrizione del formato ecm è error coding ok mode led è un file sostanzialmente compresso è un tipo di compressione dei file video di videogiochi e così via però sono file che non si possono utilizzare quindi anche in questo caso abbiamo bisogno in questo caso avremmo bisogno uno step maggiore cioè prima di tutto dobbiamo estrarre il file del gioco dalle cm scusatemi e poi dovremo convertirlo in vcd quindi ci serviranno dei software per fare tutte queste cose i software per convertire i giochi dal formato bin q e a vcd i più comuni sono ps x vcd che vedete qua e quella qua potete scaricare ovviamente come sempre vi lascerò il link per i siti da cui scaricare i software necessari altra cosa un altro software che si può utilizzare è il q e tu pops che anche lui serve a convertire file ma è in grado di convertire solo file q e quindi se avete altri formati il q e tu pops e non riesce a convertirlo io uso praticamente sempre il ps x vcd che mi sembra quello che lavora meglio riesce a convertire un po tutti i formati di file se il file forse in formato ecm in aggiunta vi serve jank jank serve per estrarre le cm e lo converte in un file punto cui che poi può essere utilizzato per creare il bcm detto questo ovviamente nella procedura che seguiremo oggi vi servirà anche un usb stick quindi una chiavetta usb le dimensioni dipendono da voi cioè ovvero da quante roms avete da caricare vi ricordo che usb stick devono essere in formato fat 32 e che con windows il fat 32 è possibile solo fino a 32 gigabyte di dimensione se fossimo sopra i 32 gigabyte di dimensione dobbiamo utilizzare software di terze parti in grado di creare file di creare device infatti 32 superiore anche se sono superiori ai 32 gigabyte nel caso specifico io utilizzo sempre il mio cui format qui mi ero dimenticato di aprire la pagina ma l'apriamo al volo gui format dovrebbe essere questa vediamo si fa 32 format gui vediamo se c'è altro sto guardando di ricordarmi qual è il sito da cui ho scaricato il mio così vi lascio il link dello stesso da cui l'ho scaricato io gui format ecco qua questo qua va benissimo quindi poi vi lascerò il link di questa pagina gui forma serve appunto a convertire dimensioni superiori a 32 giga infatti 32 io nel mio caso ho parecchi giochi e quindi utilizzerò una usb stick da 128 giga quindi non posso convertirla con windows infatti questa è la mia usb stick se io facessi formata come potete vedere mi da ex fat o ntfs ma non mi dal fa 32 siccome io ho bisogno che sia infatti 32 devo utilizzare voi format dopo vi farò vedere ovviamente come formatare la usb intanto vi dico che per poi caricare i giochi sull'hard disk ci sono sostanzialmente tre procedure una è online che non vi farò vedere oggi anche perché questa console non ha la connessione internet l'adattatore che utilizzo non è quello con la connessione internet e quindi non posso fare la connessione online l'altro è inserire i giochi in formato vcd le roms in formato vcd nella usb inserire usb nella playstation e copiare i giochi dalla usb all'hard disk nell'apposita cartella ma è un metodo molto 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 lento considerate sempre che le port usb della playstation 2 sono la 1.0 1.1 quindi è una porta veramente lentissima a copiare i giochi ci mette tanto l'altro metodo è copiare direttamente i giochi dalla usb all'hard disk ma tramite il pc con una procedura apposita serve una struttura apposta nella usb che vi farò vedere oggi e di cui vi lascerò ovviamente il link per scaricare quindi vi lascerò anche la struttura esatta della usb quindi in primis iniziamo a prepararci il nostro i nostri giochi dopo di che inseriremo l'hard disk nella playstation 2 perché bisogna creare una partizione apposita per i giochi della playstation 1 e dove poi andranno messe appunto le roms e se non c'è quella partizione non possiamo caricare i giochi e poi torneremo sul pc e andremo a caricare dentro la partizione i giochi quindi in primis se avessimo un io ovviamente ho già preparato i file però vi faccio vedere la procedura se avessimo un cd da cui vogliamo recuperare il file da inserire nell'hard disk utilizziamo un lettore cd masterizzatore esterno interno dipende non c'è problema può essere entrambi nel senso se il pc ha già un lettore potete utilizzare il suo gli ultimi pc non hanno quasi mai il lettore e quindi è necessario un lettore esterno e utilizziamo poi clone cd apriamo clone cd e facciamo copia file immagine lui trova il nostro cd mettiamo protetto pc game andiamo avanti qua ci chiede dove vogliamo salvarlo io gli ho già ho già creato la mia cartella all'interno la mia sottocartella all'interno della cartella dei giochi vedete coli mccree come vedete io già qua dentro il gioco ovviamente l'ho preparato prima gli vado a dire che lo voglio in questa cartella gli dite salva e dopodiché fate ok quando fate ok lui parte e inizia a copiare il vostro gioco nella cartella il formato q e non ci serve quindi in caso specifico formato q e potete togliere la spunta non è necessario anche perché con psx vcd non riesce a convertire il file q e ottenuto dal cd dovevamo usare l'altro formato gli mg per convertirlo in vcd quindi è inutile avere il formato q e selezionato una volta che date l'ok ovviamente lui inizierà a copiare fino al risultato del gioco dentro la nostra cartella con tutti i suoi file questo è quello che estrae ovviamente cloncd nel mio caso c'era anche il formato q e ma come vi dicevo non serve per la conversione in questo caso utilizzeremo il formato img quindi una volta finito di copiare il vostro gioco nella cartella specificata che avete creato voi o potete scaricarlo sul desktop dove volete a questo punto chiudiamo clone perché non ci serve più e iniziamo a lavorare sui nostri file sui nostri file quello che bisogna fare prima di tutto è ovviamente convertire tutti i file possiamo creare una cartella sul desktop dove andremo dove andranno a inserirsi i nostri file o possiamo già preparare la chiavetta in modo che i file vanno direttamente lì dentro sostanzialmente il modo più veloce è probabilmente preparare già la chiavetta perché perché almeno i giochi li carica direttamente lì dentro e non li mettiamo sul desktop e poi o in un'altra cartella del pc e poi dobbiamo copiarli e di incollarli nella chiavetta perché ci mettiamo più tempo quindi quello che faremo adesso è andiamo a prepararci la nostra usb quindi apriamo cui format la nostra chiavetta andiamo a controllare state attenti assicuratevi sempre di selezionare la lettera corretta quindi è la lettera e va benissimo e a questo punto lasciamo tutto come quick format selezionato e diamo start lui ovviamente ci chiede se vogliamo veramente formattare la chiavetta perché avevano cancellato tutti i dati noi diciamo di sì e attendiamo che gui format esegua il suo lavoro una volta che qua vi da completamento quindi vi dice done e qua vi da il tasto close cliccabile vuol dire che la chiavetta è stata formattata se adesso noi aprissimo il nostro pc ed andassimo a vedere le proprietà della nostra usb stick come vedete è fa 32 quindi l'abbiamo formattata in fa 32 altro software che occorre in questo caso adesso lo vado a prendere è o pl o pl è un software che serve per varie cose serve sostanzialmente per correggere i nomi dei file se sono errati e metterli nel nome nella nomenclatura corretta per la console serve per creare già le cartelle necessarie ad o pl nella console stessa in modo che non dobbiamo inserire perché l'altra opzione sarebbe inserire usb nella playstation 2 avviare o pl e far sì che o pl crei le cartelle ma noi le possiamo creare direttamente appiccino non ho bisogno di avviare la console quindi apriremo o pl adesso lo apro quindi ecco qui o pl ce lo mettiamo lo mettiamo sul desto così ce l'abbiamo parola di mano eccolo qua quindi la nostra cartella o pl o pl manager esegui desto del mouse esegui come amministratore cercate sempre di eseguire tutto come amministratore per essere sicuri che tutto funzioni correttamente nel mio caso era già impostato pl per la lettura della chiavetta e quindi mi dice che non trova le cartelle necessarie o pl manager scusatemi era impostato per chiavetta e mi dice che non trova la struttura per o pl nella mia chiavetta quindi quello che facciamo dobbiamo in questo caso possiamo già cliccare l'ok e lui creare cartelle siccome io vi voglio far vedere anche come impostare o pl cioè facciamo conto che sia il primo avvio e a questo punto io una volta che avvio pl vado su settings change mode o pl folder seleziono normal iso più zs o più e così via e qui in bros gli vado a dire che deve usare questa chiavetta una volta che clicco salva lui mi dirà ancora nostri di or dvd or art for the found e che deve prepararle quindi vogliamo prepararle sì lui prepara già tutte le cartelle necessarie dentro la nostra usb stick la nostra usb stick era stata formattata quindi era completamente vuota se io andasse ad aprire adesso la nostra usb stick vedete che ci sono tutta una serie di cartelle queste sono le cartelle che serviranno per poter lavorare correttamente questa non è ancora la struttura definitiva del usb stick cioè la struttura di cui vi parlavo prima che ci consentirà di caricare i file dei nostri giochi dalla chiavetta al hard disk direttamente col pc ci sono degli altri file che poi dobbiamo andare a inserire nella chiavetta usb allo stato attuale abbiamo preparato tutto quello che ci occorre per iniziare a caricare almeno i file nella chiavetta la cartella dove andranno i file si chiama pops che poi sarà lo stesso nome che dobbiamo dare alla nostra directory nell'hard disk quindi cosa facciamo ora chiudo la mia chiavetta chiudo la cartella di opl manager tanto non mi serve più riapro la mia cartella roms e vi faccio vedere che ovviamente ho dentro crash bandico in formato bingue ma devo trasformarlo in bcd o dentro coli mccree con il formato ccd mg sub qe che deve essere convertito anche lui in bcd e ho crash bandico in formato icm che deve essere prima convertito in qe per poi essere convertito in bcd quindi iniziamo da questo file apriamo gemc qui gli diciamo dov'è il nostro file lo selezioniamo col doppio clic o un clic più apri e diciamo ane cm file un ecm eccolo qua lui adesso ha convertito il mio file crash bandico in punto qe questo file io lo posso utilizzare per convertirlo in bcd quindi lui ha convertito il file in punto qe però come avete visto io ce l'ho già crash bandico team punto qe questo era solo per farvi vedere come convertire da icm quindi io questa cartella ora me la cancello perché non mi serve più ed andiamo utilizzare direttamente la cartella del crash bandico che ho qua dentro per convertire il file in bcd possiamo utilizzare come vi dicevo qe2pops o psxbcd per questo gioco utilizziamo qe2pops così vi faccio vedere come funziona per l'altro gioco utilizzeremo psxbcd per utilizzare qe2pops prendiamo i due file del qe2pops e li mettiamo dentro la cartella del gioco dopodiché prendiamo il file qe e lo trasciniamo sul punto bat come vedete lui parte e converte il nostro file in bcd eccolo qua lo fa in automatico avete visto lui ha convertito il file perché trova il qe il qe il bin se non ci fosse qe bin qe2pops non ce la fa fare la conversione comunque ci deve essere un bin e un qe e utilizzate il qe con qe2pops altrimenti non fa niente se avessimo che ne so 10 giochi in una cartella tutti con bin e qe possiamo mettere tutti i giochi nella stessa cartella e qe2pops nella cartella dei giochi e convertirli tutti insieme non abbiamo bisogno di convertirli un alla volta potete selezionare tutti i formati qe li trascinate sul bat e lui vi convertirà tutti i file uno alla volta una volta fatto questo abbiamo il nostro primo vcd pronto adesso andiamo invece a convertire colli mccree utilizzando a questo punto invece in psx vcd per utilizzare psx vcd basta lanciarlo adesso ovviamente ci sono dei test che avevo già effettuato prima quindi vedete i giochi qua ma andiamo a rifarlo cliccate su add file selezionate il file image in img non selezionate il file qe perché non riesce a farlo nel caso di cd copiato attenzione se invece avessimo dei giochi scaricati online dove avete bin e qe lui riesce tranquillamente a convertire il problema del file in questione è che quando io copio un cd con clone non mi crea il file bin e quindi via psx vcd per convertire un qe ha bisogno che ci sia il suo bin se non c'è il bin insieme al qe lui non converte quindi utilizziamo un altro formato il vantaggio di psx vcd ecco converte altri formati a differenza di qe su pops quindi selezioniamo coli mccr rally img lo inseriamo quello che possiamo fare è andargli a dire già di salvarlo direttamente nella nostra chiavetta se anche qui se avessimo dieci giochi da convertire potete inserirli tutti nella finestra di psx vcd poi andata a dirgli di metterlo nella vostra chiavetta quindi nella vostra usb e lui vi andrà già a creare la cartella pops vedete che qua scrive e pops voi avete selezionato e lui vi dice e pops perché lui converte vi crea la cartella pops dove all'interno metterà già i vcd quindi facciamo convert vedete lui sta iniziando fa tutta la conversione abbastanza veloce poi dipende sempre dalla montare di file della quantità di file che inserite ovviamente adesso ci mette un po più tempo perché sto lavorando su usb stick quindi siccome lui adesso sta caricando il mio file convertito direttamente nell usb la velocità dipende anche dalla velocità stessa della usb stick se la usb stick che non è velocissima lui deve rapportarsi in quella velocità se avessi convertito sul desktop o su un componente più veloce anche la co la creazione del file sarebbe stata molto più veloce quindi adesso attendiamo che lui converta al file e dopo di che vi farò vedere che dentro alla mia usb ci sarà già la cartella pops con all'interno il mio gioco convertito mentre come abbiamo visto q2 pops e me lo va a creare nella cartella stessa o del q2 pops o del gioco quindi poi me lo devo copiare ed incollare nella cartella pops della usb stick come vedete la conversione finita vi dice danno e ve la metto in verde come vi dicevo se avessi utilizzato il file q e mi avrebbe dato il fail cioè non può farlo se andassimo a vedere ora dentro la nostra usb stick potete vedere che innanzitutto ci sono delle dimensioni diverse adesso perché una parte è stata occupata abbiamo la nostra cartella pops e dentro abbiamo già il nostro colli mccree rally bcd quindi lui ha già creato la cartella pops nel nostro caso già c'era quindi la solo sovrascritta ci ha messo dentro il gioco nel caso dell'altro gioco invece di crash bandico siccome non abbiamo abbiamo utilizzato il q2 pops e quindi è rimasto nella cartella del gioco stesso non facciamo nient'altro che prendere e trascinarlo dentro la cartella pops della chiavetta e attendiamo che lui finisca la coppia ecco qui adesso lui ha copiato anche l'altro gioco all'interno della chiavetta e abbiamo i nostri due giochi pronti ora vi faccio vedere altre cose importanti quindi come vi dicevo questa è la struttura necessaria per l'opl ovviamente questa struttura è già dentro anche al nostro hard disk perché opl l'ha già creata quando abbiamo avviato i giochi della playstation 2 in aggiunta come vedete io ho preparato due cartelle una struttura hdd quindi hard disk e l'altra struttura usb nella struttura usb ci sono i nostri file aggiuntivi che sono quelli che serviranno per poter caricare automaticamente le nostre roms della ps1 dalla usb all'hard disk tramite pc quindi questi file io non faccio nient'altro che selezionarli tutti destro del mouse coppia mi metto nella cartella della mia usb destro del mouse incolla esposto tutti questi file all'interno della mia usb la mia usb è quasi pronta non è ancora perfettamente pronta per essere pronta al cento per cento possiamo fare un altro passo ancora cioè avviamo nuovamente l'opl manager che andrà a controllare se i nomi dei file sono corretti per come servono alla console per poterli girare e andremo a scaricarci anche le cover art ovviamente saranno nella usb stick e dopo andranno spostate dentro l'hard disk altrimenti ovviamente non vedremo le cover art quando andiamo a scorrere la nostra lista di giochi quindi adesso avviamo nuovamente chiudiamo le nostre finestre così non abbiamo 200 finestre aperte andiamo nuovamente ad aprirci o pl manager destro del mouse esegui come amministratore diciamo di sì adesso lui va a cercare i giochi va a esaminare la chiavetta e trova due file e ci dice che hanno un nome invalido perché perché dentro alla cartella pops che è la cartella dove vanno i nostri giochi che dovrà andare a leggere la console i giochi vanno con game id quindi id del gioco punto nome del gioco punto vcd se noi andassimo a controllare adesso la nostra chiavetta i giochi nella cartella pops sono nome punto vcd manca il game id ok quindi infatti se vedete nella struttura hdd dove io ho messo l'esempio id gioco punto nome gioco punto vcd quindi ci manca la parte id gioco e questa la recupera il nostro o pl manager quindi questa è una prassi obbligatoria in sostanza non è obbligatorio cercare le cover art ma è una cosa in più quindi adesso noi andiamo qua gli diciamo di prendere il nome dal db quindi gli diciamo di correggere il nome nel caso sia sbagliato questo vedete la corretto e dopo di che gli metti li selezioniamo batch convert vcd naming quindi diamo l'ok mode in questo caso selezioniamo hdd perché noi andremo sull'hd e dopo di che gli diciamo di mettere di forma di creare i nostri file quando lui ha finito vi dice operation has been completed e noi possiamo chiudere questa finestra in cc mostra ancora un nome invalido coli mccree quindi try to update il nome perché non gli piace questo 2.0 quindi facciamo così aggiorniamo il nome e adesso come vedete in automatico si sposta nel nostro nella nostra cartella se adesso andassimo a vedere la cartella della nostra usb stick vedete che i file sono nominati in modo corretto quindi pops sls che il nome l'id del gioco punto nome del gioco punto vcd adesso lui vede i giochi in modo corretto la console sarà in grado di eseguirli altrimenti non sarebbe stato in grado come vi dicevo prima nel mio caso mi piace che tutto sia completo quindi voglio anche che ci siano le copertine quindi una volta convertiti i giochi rinominati e messi nel formato corretto seleziono batch actions art download assicuratevi che tutte queste cartelle siano tutte queste funzioni siano spuntate nel caso aveste già delle cover art nelle vostre nella vostra cartella opl voleste sostituirle selezionate anche le sotto funzioni quindi spuntate anche queste sotto funzioni e poi date lo start e lui cercherà online le cartelle dei vostri giochi le cover art dei vostri giochi e le metterà nella cartella cover art ovviamente la cartella art come vedete adesso io ho le mie art se andassimo ancora nella nostra chiavetta andiamo in art e vedete che ci sono le nostre tutti i nostri file perché sono così tanti perché non c'è solo la copertina ci sono anche delle immagini di gioco solitamente potrebbe esserci la copertina del cd e così via come se volessimo andare a guardare se noi andiamo a manage arts vedete che per crescio la copertina frontale la laterale la posteriore o due immagini di gioco o background cioè l'immagine di sfondo che vedrò quando andrò su crash bandicoat l'immagine cd e anche il banner il logo quindi ho tutti i file stessa cosa per coli mccree vedete mi ha trovato tutti i file a questo punto la nostra chiavetta è praticamente pronta quindi la usb stick è praticamente pronta per poter spostare i giochi sul nostro hard disk quello che dobbiamo fare ancora adesso chiudiamo o pl manager che non ci serve più adesso dobbiamo andare a spostare dei file dalla mia cartella struttura hdd sempre dentro all'usb perché perché poi dovremmo inserirli nell'hard disk e questo va fatto tramite la console ovviamente la cartella underscore underscore pop punto pops è una cartella è il nome della partizione che dovremmo dare noi quindi questa cartella non è da spostare è un esempio la cartella o pl plus underscore underscore plus o pl è già dentro nella console perché la crea o pl stessa cosa vale per la cartella underscore underscore common è già dentro alla console però quello che non c'è dentro nella console sono le sottocartelle cioè il pop starter elf non c'è ancora nella mia console questo serve per far avviare i giochi della psx e non ci sono questi due file che sono il io pr p252 img e il pop self che servono sempre per far girare i nostri giochi attenzione nel file che vi darò da scaricare quindi che vi linkerò nel video non ci saranno dentro questi due file perché perché questi due file sono coperti da copyright quindi non possono essere distribuiti online io non posso darveli però li potete trovare molto facilmente su internet quindi vi basta scrivere il nome di questi due file e andare su google scrivere il nome su google e andare a scaricarli quindi segnatevi esattamente quali sono i due nomi sono io pr p252.img e pops punto elf questi due file vi dovete cercare voi quindi quello che faccio è copiare anche tutto questo contenuto questi due sostanzialmente dentro la mia chiavetta usb quindi copia apro ancora la mia chiavetta usb e incolla e mi fa e son qua dentro sostanzialmente col pc abbiamo quasi finito quindi ora ci spostiamo sulla console andiamo a preparare il nostro hard disk ed andiamo ad inserire nel nostro hard disk tutto quello che è necessario poi ci sposteremo sul computer solo per andare a spostare i giochi dalla chiavetta usb quindi ci troviamo tra qualche secondo sulla console eccoci qua ora prepariamo la nostra console quindi inseriamo la nostra usb stick nella porta 1 che è la superiore inseriamo il nostro hard disk nella console quindi attacchiamo l'adattatore ed inseriamo l'hard disk nella console dovremmo essere a posto la nostra console è quindi pronta all'avvio non si era collegato bene l'hard disk l'ho ricollegato adesso dovrebbe funzionare ovviamente ci metterà un attimino ad avviarsi l'hard disk da un terra nel mio caso quindi è bello grosso e la console è datata quindi ci mette il suo tempo attendiamo che riesca a far partire free mc boot eccolo qua lo sta caricando allora per prima cosa dobbiamo andare a creare la nostra la nostra partizione sull'hard disk quindi avviamo un lancio alfa hdd attendiamo che carichi i moduli ed andiamo ad avviare hd manager hdd manager qui ci metterà un pochino attenzione quindi aspettiamo metto un attimo in pausa quando hdd manager sarà avviato riprendo la registrazione ecco qui quindi il nostro software si è finalmente avviato ci ha messo un bel po perché io già dentro tutti i giochi tutte le rounds della ps2 sono parecchie quindi è dovuto caricare tutto lui ovviamente a seconda di quanta roba c'è dentro deve caricare per avviare il manager e quindi ci mette il suo tempo una volta che siamo qui clicchiamo r1 e clicchiamo create con la x la cartella la partizione che dobbiamo andare a creare si deve chiamare underscore underscore punto pops quindi andiamo a cercare quindi uno due punto tutto in maiuscolo p o p s e diamo l'ok a questo punto lui ci chiede la dimensione della della nostra cartella nel caso specifico io gli vado a dare tutto quello che mi è rimasto sull'hard disco quasi mi è rimasto sostanzialmente come vedete in alto hdd size 953 giga e qualcosa usato 837 giga libere 116 gli do 110 giga se utilizziamo il pad destro lui si muove pian pianino se utilizziamo l'r1 lui si muove di scatti molto più elevati e quindi noi nel nostro caso dobbiamo andare a quasi al massimo quindi andiamo a 110 giga ecco qua mettiamo 111 e per me va bene così quindi 111 giga e diamo ok create new partition ok lui ora creerà la nostra partizione pops per i giochi della playstation 1 dobbiamo dare anche qua il suo tempo ovviamente ci metterà un po non è che sarà immediata la cosa quindi metto un attimo in pausa ancora e torniamo quando ha finito ecco qui come vedete lui ha creato ora la partizione infatti se vedete quanto è libero ormai non c'è quasi più niente libero sul mio hard disk se andassimo in giù possiamo andare a cercare la nostra nuova partizione eccola qua si chiama underscore underscore punto pops è di 100 e 118 giga mette e sono utilizzate solo otto mega che sono i file di sistema quello che possiamo fare ora clicchiamo sul triangolo nel controller come c'è scritto sotto per uscire e adesso è uscito dal hd manager adesso ci dobbiamo andare ad inserire nelle nostre cartelle i file necessari per poi avviare i giochi quindi le roms del ps1 quindi in questa pagina schiacciamo sul tondo andiamo su add disk hard disk scusate mi sono mangiato una r aspettiamo che carichi ripeto il mio è un hard disk bello grosso è come vedete come vi dicevo prima la cartella più opl e la cartella common ci sono già ok mi trovo una cartella pops 1 e devo guardare perché era fatta adesso sto cercando la apro per controllare se c'è qualcosa all'interno apro anche l'altra sono entrambe vuote in sostanza lui i giochi dovrebbe metterli nella cartella pops e non pops 1 allora quello che facciamo ora è andare indietro col triangolo andiamo attenzione nella cartella common guardiamo cosa c'è dentro non c'è niente quindi andiamo indietro col triangolo andiamo mass x andiamo a cercarci la nostra cartella common la cartella common già esiste quindi non copio questa entro e copio la mia cartella pops cerchio per evidenziarlo r1 x su copy adesso andiamo tutto indietro con triangolo torniamo nell'hard disk andiamo su common dentro a common r1 paste e lui incolla il nostro pops elf dentro la cartella pops c'è il ci sono i due file che vi dicevo prima quindi i nostri sostanzialmente sono come dei bios quindi questi sono i file che non vi potrò dare dovete cercare online adesso andiamo tutto indietro ancora qua nella cartella più opl andiamo a vedere se c'è una cartella che si chiama pops anch'essa e non c'è quindi quello che dobbiamo fare dalla chiavetta copiamo l'intera cartella pops quindi triangolo triangolo mass x andiamo su più opl entriamo ci spostiamo su pops tondo r1 copy triangolo triangolo hd x più opl x r1 x su paste e abbiamo copiato la nostra cartella pops col pop starter questo si trova anche online ma io comunque vi metterò la struttura della chiavetta usb e il pop starter ve lo posso lasciare dentro in sostanza abbiamo spostato tutti i file che ci serviva a spostare quindi quello che possiamo fare ancora prima di spostarsi sul pc e caricare i giochi nell'hard disk è visto che abbiamo già scaricato le art metterle già dentro alla cartella di opl così non dobbiamo più rimettere la usb dopo nella console non lo spostiamo più in sostanza quindi triangolo mass x art x teniamo schiacciato il tondo per evidenziare tutto quando tutti hanno il pallino di fianco sono tutti evidenziati r1 x copy triangolo triangolo hard disk is x scusatemi più opl x art x e qua schiacciamo r1 paste e abbiamo incollato anche già le nostre cover art a questo punto quello che possiamo fare è spegnere la console perfetto e ci spostiamo sul pc per andare a caricare le nostre roms della ps1 bene eccoci sul pc abbiamo attaccato il nostro hard disk nel mio caso sulla docking station potete utilizzare se usate hard disk da due e mezzo potete usare solo il cavo adattatore da sata usb altrimenti a docking station come sto facendo io abbiamo già inserito la nostra usb stick ancora nel pc adesso apriamo la nostra usb stick andiamo su 4 pop butcher questo destro del mouse esegui come amministratore e diamo l'ok a questo punto lui ci va a controllare l'hard disk ci dice se controlla se trova la cartella pops se trova la cartella pops ci dice transfer pops noi schiacciamo 1 quindi yes e lui adesso controlla le partizioni e dopodiché se trova la partizione corretta inizia a caricare i due giochi che abbiamo dentro l'usb quindi la partizione l'ha trovata ci dice schiaccia invio o comunque schiaccia un tasto per continuare adesso sta creando la coda e la sta installando quindi adesso installerà i nostri giochi dalla usb al hard disk lui non mostrerà nessuna barra di completamento né niente però voi attendete finché non vi dice installation completed a questo punto vuol dire che ha installato i giochi nel nostro hard disk quindi possiamo chiudere la finestra e ora possiamo staccare il nostro hard disk al pc reinserirlo nella console e avviare OPL attenzione con OPL OPL ce ne sono tante versioni le ultime non sono in grado di fare girare le ROMs della PS1 o PSX quindi per far girare le ROMs della PS1 o PSX è meglio utilizzare OPL Anniversary quindi anniversario 10th anniversary decimo anniversario questa versione ve la posso lasciare è scaricabile anche dal web ma bisogna cercarla perché quando andate nella cartella d'OPL vi farà scaricare maggiormente l'ultima versione io vi lascerò direttamente il link nella descrizione del video così potete scaricare OPL se aveste all'interno della vostra modifica un OPL più recente quindi non il 10th anniversary vi faccio già vedere cosa dovete fare quindi voi vi andate a prendere il file dal link che vi lascerò nella descrizione lo scaricate adesso devo cercarlo io ce l'ho sul mio pc eccolo qua PS2 io l'ho chiamato lui non si chiama OPL anniversary l'ho rinominato io lo possiamo mettere nella nostra USB quindi lo trasciniamo nella root del USB lui l'ha spostato e poi andiamo a inserirlo nella nostra console vi faccio vedere come inserirlo e impostarlo quindi chiudiamo il pc e ci spostiamo per l'ultima volta sulla console eccoci tornati sulla console quindi ora ho inserito ancora una volta l'USB stick ripeto se avete già l'anniversary OPL anniversary non vi serve questa parte quindi una volta che avete copiato già le art e tutto dentro l'hard disk nel precedente passaggio la USB non serve più nella console ora avviamo la console abbiamo dentro l'hard disk e la USB adesso vi faccio vedere come installare e impostare OPL per la partenza perfetto adesso andiamo ancora su l'hunchelf Tondo andiamo giù su mass X andiamo a cercare OPL decimo anniversario Tondo R1 X su copy triangolo e poi andiamo su su HDD adesso andiamo su System Conf Free MCBot quindi FMCB qua R1 X su paste ora lui ha copiato il nostro OPL anniversary triangolo 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 ancora select e qui andiamo su PS2 Browser lui esce da Ulaunch e torna alla schermata iniziale della console ovviamente il file OPL adesso è dentro al nostro hard disk al nostro hard disk ma se non abbiamo ancora impostato il collegamento di lancio dalla home page della console non potremo avviarlo quindi vi faccio vedere anche come impostare il lancio quindi adesso andiamo su tutto giù a cercare Free HDBoot Configurator X andiamo giù su Configure OS DSIS Options X e andate a cercarvi dove c'è già OPL perché OPL c'è già sicuramente quindi andiamo a cercarci OpenPS2 Loader eccolo qua a questo punto io gli cambio il nome quindi X tondo allora mi sposto tutto a destra con R1 vedete che vado in fondo cancello tutto con il tondo e poi io lo chiamo di solito PS S eccoli qua i numeri sono qua 1 spazio col quadrato E spazio col quadrato P S ogni lettera va selezionata con la X 2 spazio col quadrato e metto e metto Loader o potete mettere Games Giochi come preferite voi il nome è a scelta l'O A D e R datelo ok poi vi spostate su Path 1 se ci fosse qualcosa anche in Path 2 e in Path 3 andate sopra e schiacciate il tondo per cancellare su Path 1 date la X andate su hard disk quindi HDD0 X andiamo su System Conf X FMCB X e andiamo a cercarci OPL 10 Anniversary X adesso andiamo giù su Return X Return X andiamo tutto giù su Save Configuration to HDD0 X e là in alto ci dice che ha salvato la configurazione andiamo giù su Exit e diamo la X per uscire a questo punto siamo pronti per lanciare il nostro OPS2 Loader e andare a guardare i nostri giochi quindi aspettiamo che lui carichi la home page andiamo su PS1 e PS2 Loader X e attendiamo che ha carichi OPL Anniversary questo è l'anniversary e se la vostra schermata di OPL fosse diversa non avete l'anniversary e con molta probabilità non riuscirete a far girare i giochi della PS1 quindi scaricate e installate quello che vi farò del link che vi darò nel video questi sono i giochi PS2 ovviamente adesso non è ancora abilitato ai giochi PS1 e quindi non posso andarle a vedere a questo punto schiacciamo Start Settings andiamo tutto giù X su PS1 Games Display Mode e ci spostiamo su Auto andiamo giù ok altra cosa se avete installato le cover art dovete attivarne la visualizzazione quindi Display Settings X e andate ad assicurarvi che Cover Art Enable Cover Art sia On mettete On andate tutto giù su OK X e salvate i cambiamenti altrimenti li perdete al prossimo riavvio Save Settings Saved Back Game List tondo adesso se io mi spostassi a destra e a sinistra con il pad scorro tra i giochi PS2 e i giochi PS1 ecco qua i nostri PS1 con le cover art ok se mi sposto mi spostassi a sinistra con il pad vado sui giochi PS2 se aveste più pagine di giochi per scorrere avanti e indietro L1 R1 quindi R1 avanti L1 indietro per spostarsi da una console all'altra il pad qui ovviamente ho solo due giochi quindi R1 L1 non mi cambia pagine perché non c'è nulla mi fa solo vedere questo ok per avviare il gioco X e lui carica il gioco dovete attendere ci mette il suo tempo perché è un'emulazione quindi deve prima emulare tutto preparare i settaggi per poi far partire il gioco e come vedete il nostro gioco funziona alla perfezione ecco qua e siamo dentro al gioco che funziona perfettamente quindi il nostro lavoro è uscito con successo per uscire dai giochi si schiacciano tutte e quattro i dorsali quindi L1 R1 L2 R2 Select Start ed esce questa schermata vi spostate a sinistra per evidenziare il rettangolo di sinistra e schiacciate tondo e lui esce dal gioco per salvare i giochi utilizzate una memory card della PS1 inserita nella porta numero 1 della console perché molto spesso i giochi PS1 come anche quali PS2 salva in automatico su porta numero 1 se non dovesse uscire la console dal da OPL e riavviarsi a volte capita capita anche con i giochi PS2 spegnete la console e la riavviate manualmente non succede nulla quindi abbiamo preparato i nostri la nostra emulazione per PSX sull'hard disk della PS2 modificata con free HD boot abbiamo messo anche le cover art abbiamo messo l'OPL abbiamo messo tutti i nostri file spero che la guida vi sia piaciuto è un po' lunga ci sono un po' di cose da fare spero di essere riuscito a spiegare bene cosa dovete fare se il video vi fosse piaciuto vi chiedo di mettere un bel like iscrivetevi al mio canale così potete rimanere aggiornati su tutti i miei video vi ringrazio per aver seguito questo video e auguro a tutti una buona serata al prossimo video